Provedel, goleador, salva la Lazio al 95esco, l'esordio di Champions contro l'Atletico Madrid. Finisce 1-1, tanta Lazio, seppure stelino nel primo tempo, ospiti attendisti e cinici, sull'unico tiro, 29esimo, Barri trova la sfortunata deviazione di Kamada, che mette fuori caso Provedel. Nella ripresa immobile a una clamorosa occasione su errore di Obrek, l'Atletico si fa più audace. Crisman, sciupa da due passi, palo di Morata, con deviazione il Romagno, Ferraumale, Provedel, sull'ino, bravo Beck, sulla sventolata di Cadaldi, Provedel, Avanta sull'ultimo corne e tira di testa. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!